È una cosa bella ricordare i 25 anni di sacerdozio di Don Dionezio, del Parco di Papa Sidorio, perché viviamo in un'epoca in cui tutto è a scadenza, non solo i prodotti, ma anche gli affetti, anche gli impegni delle persone. Quindi ricordare i 25 anni di sacerdozio è un fatto bello, che suscita in noi gratitudine, ammirazione e soprattutto speranza, speranza che anche altri si muovano nella linea della fedeltà. Il messaggio della pace è un impegno quotidiano per tutti. Il mondo di oggi è violento perché si è allontanato da Dio e non c'è pace dove non c'è Dio. Se vogliamo riportare pace nel mondo, viene a riportare nei cuori. Se vogliamo portare pace nei cuori, viene a riportare Dio. Non c'è altra strada.